L'Ajuzza è un ballo dell'Alta Valsesia e precisamente di Rimella, uno dei paesi più alti e inaccessibili della valle. È stata importante dagli immigranti nel 1600, quando era usanza e soprattutto necessità, andare a cercare lavoro oltre le montagne. Quindi dall'unione dei costumi d'Oltralpe con quelli della Valsesia è nato questo allegro ballo. La Valsesia La Valsesia La Valsesia La Valsesia